Davanti si è arrivato anche un uomo della Soudala Quickstep, credo significhi una cosa, che quanto riguarda la scultura sono eseguite con questo marmo, il marmo bianco di Carrara. ...dai suoi compagni di squadra riesce a riemvelasco e con grande piacere ricordiamo anche una delle squadre che per tanti anni è stata protagonista nella... Grazie a tutti!